Allora, buonasera a tutti da Tony Laino, iscrivetevi al canale, parliamo dell'episodio Juventus-Nans 1-1, 96esimo minuto di gioco, playoff di Europa League. Regolamento alla mano, da ex arbitro, non mostro il regolamento, non mostro il video perché per motivi di copyright non si può fare, mostro in ferma immagine dove si vede il fallo di mani, il video fa vedere anche un presunto fallo, andiamo a spiegare il perché della decisione, è perché è corretto o sbagliato. Questo, eccolo qua, questo è il frame, ed è la prima immagine che l'arbitro vede al VAR. Cross in mezzo, fallo di mani nel difensore, si vede Locatelli che salta, non si vede Bremer che pare, dico pare, far fallo al difensore del Nans. L'arbitro rivede al VAR, rivede al VAR, l'azione e decide di non fischiare il rigore e fischiare fallo in attacco. Allora, perché lo ripiccioliamo? Perché è una decisione sbagliata? Secondo me è una decisione clamorosamente sbagliata e vi spiego il perché. Cross in mezzo, il difensore salta col braccio così, tocca il pallone con la mano e l'arbitro fa, non fischia il fallo, fa proseguire il gioco e viene chiamato al VAR. Allora, da regolamento, l'entità di un contatto lo decide il direttore di gara dal terreno del gioco, quindi nel VAR né noi da casa, né la televisione, né nulla, può decidere l'entità. Lo decide solo l'arbitro perché da casa o dalla televisione, nelle immagini del VAR è impossibile decifrare l'entità di un contatto. Quindi solo dal campo l'arbitro può vedere a occhio se il contatto è lieve, forte, meno forte, più forte. Questo è il regolamento ed è anche logica come cosa. Il fallo di mani, ora ve lo ingrandisco, eccolo. Il fallo di mani è evidente, quindi l'arbitro che fa? Va al VAR, attenzione, va al VAR e decide di non dare il calcio di rigore a me il fallo. Fallo che inizialmente l'arbitro non aveva fischiato perché aveva ritenuto l'azione fino a quel momento regolare. Torna sui suoi passi ed è sbagliatissimo e calcio di rigore perché il difensore del Nantes salta con il braccio alzato. Quindi il braccio non è conforme al movimento del corpo, il braccio è fuori dall'immagine del corpo. E va a toccare il pallone, deviandolo in maniera netta, procurando un vantaggio in questo caso. Io faccio una domanda. Se Bremer o Locatelli avessero fatto gol, l'arbitro avrebbe mai annullato la rete per il fallo di Bremer? Mai, mai. Perché aveva deciso che l'azione era regolare, il contatto era regolare. Sarebbe stato mai richiamato dal VAR per quel fallo? Mai. Perché l'arbitro dal campo va deciso che il contatto è regolare. Il contatto lo avrebbe dovuto fischiare immediatamente. L'entità del contatto la vedi immediatamente e non lo può rivedere al VAR. Quindi se il VAR ha detto vai a rivedere l'azione e gli fanno vedere questa immagine, questa immagine qua. Lui si accorge di una carica sul difensore e decide di dare il fallo. È una decisione sbagliatissima. Ora questo video lo voglio fare breve, ma al massimo di 5 minuti stiamo già parlando troppo. È una decisione scellerata. È un furto. Questo è un furto nel vero senso della parola. Lo dico da ex arbitro. Qui è stato preso un abbaglio. Poi volete parlare della partita della Juventus che ha meritato di vincere, non ha vinto, ha preso due pali, ha fatto occasioni, non ha segnato, ha preso cose contro piede. Certo, l'arbitro è l'alibi dei perdenti, non ci si appoggia all'arbitro. Come dico sempre io, come i giocatori sbagliano un gol sbaglia anche l'arbitro. Va bene, d'accordo. Magari la Juventus doveva vincerla diversamente la partita. Su questo siamo d'accordo. Però noi stiamo parlando dell'episodio. Nell'episodio che indubbiamente ha cambiato l'esito di una partita. È calcio di rigore per la Juventus. Questo da regolamento del gioco del calcio è tutta la vita calcio di rigore. Tocco di mani, mano alta, mano alta, come potete vedere, va a saltare così. Toccato meno, il difensore va già a saltare, scordinato, con la mano alta. Certo, non è che puoi saltare così. Salti così, ma non così. Tu hai proprio deviato il pallone. Quindi, dinamica a parte, che comunque la dinamica fa tantissimo, e parliamo di Europa League, quindi diciamo che sono arbitri validi. Uno è un arbitro che va arbitrario in Europa League e un arbitro valido. Non io che facevo la terza categoria, la promozione, la seconda categoria. Questo è fallo. È tutta la vita calcio di rigore. Movimento non conforme, braccio alto, diviazione del pallone. Si può discutere sul fallo di Bremer. Io posso dire che è fallo, tu puoi dire che non è fallo, perché l'entità non possiamo vederla alla TV, o l'arbitro non poteva rivederla dal monitor. L'arbitro è andato a rivedere, è annullato? Cioè non è che è annullato. Ha praticamente detto che non era calcio di rigore, ma che era fallo. Dopo che il fallo non l'aveva fischiato. Questo è un errore gravissimo. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, parlo di Lazio, parlo di calcio, ma anche e soprattutto quando ci sono questi episodi abbastanza vergognosi, abbastanza plateali, è giusto parlarne. Non sono dalla Juventus, sono dalla Lazio, ma è giusto che questi episodi vengano, come si dice, fatti rivedere e spiegati. Non posto foto del regolamento perché è inutile in questo caso. Quando ci sono casi un po' più complicati è giusto andare a postare la parte del regolamento, per capire bene come funziona, quali sono i criteri di assegnazione, o meno di un calcio di rigore, di un'espulsione. Ma in questo caso credo che sia abbastanza chiaro. l'unica cosa del regolamento è l'entità, ma non c'è bisogno di andare, perché è una cosa che ormai sappiamo e non c'è bisogno di andare a spiegare. Credo che qui sia più che evidente il calcio di rigore.